Costruiamo il futuro in una città che cambia dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale. È il titolo del convegno promosso dalla Diocesi di Piazza Armerina tramite l'Osservatorio Pastorale di Gela, fortemente voluto dal Vescovo Rosario Gisana, che si terrà venerdì 29 aprile alle 17 presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. L'Osservatorio Pastorale Cittadino, composto da laici impegnati con una significativa esperienza di animazione sociale provenienti da tutte le parrocchie gelesi e presieduto dal vicario foraneo Michele Mattina ed è stato costituito in supporto al servizio del Vescovo con la missione di sostenerlo nella sua azione pastorale. Si sta cercando di trovare nuove vie e quindi di poterle percorrere. Il convegno che abbiamo organizzato vuole essere un segno di speranza per questa nostra città. Sappiamo che c'è la crisi del lavoro e con i tanti disoccupati e aspettare che altri vengano a risolvere i problemi della nostra città forse significa stare a guardare in maniera passiva. E allora diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche e sicuramente ci saranno mille altre possibilità perché gradualmente, pian pianino, si possa uscire fuori da questo tunnel e garantire serenità, tranquillità non solo alle persone che hanno bisogno di lavorare ma anche alle loro famiglie. Il convegno non fa altro che richiamare quello che è l'accesso ai fondi europei, il microcredito e quindi con la possibilità che piccoli artigiani, persone che realmente vogliono fare, possano, seguiti anche accompagnati dai tutor, possano realizzare qualcosa di bello, di buono e di valido per loro e anche utile per la nostra città. Avevamo anche in cantiere un incontro con operai, sindacati e amministrazione, poi esilitato tutto quanto perché l'amministrazione e i sindacati sono stati convocati per il giorno 19 aprile a Roma e quindi in futuro pensiamo di poter incontrare di nuovo gli operai per conoscere la situazione e anche poter dare oltre alla nostra solidarietà il nostro sostegno perché anche per loro ci possa essere insomma un futuro.